Salve a tutti ragazzi, oggi anch'io sono costretto ad indossare un copricapo per coprire, diciamo, i miei capelli che fanno abbastanza cagare quest'oggi. Comunque, il video di oggi parlerà di Assassin's Creed, l'intera serie. L'inizio del video lo volevo fare solamente sull'ultimo capitolo della serie, poi però, visto che non c'era molto da dire, mi sono detto, no sì dai, facciamo tutto quanto, tutti i giochi. Quindi, cominciamo con Assassin's Creed 1. Questo gioco del 2007 è stato un successone, perché era un'innovazione per il modo di giocare del tempo. È stato anche uno dei primi giochi per le console di questa generazione, PlayStation 3 e Xbox 360. Già nel 2005, quando è stato annunciato, avevano previsto che avrebbero fatto parecchie vendite, avevano già visto le figate che sono riusciti a fare. Nel 2007, quindi, già al day one ci sono state vendite a profusione, direi. Questo gioco, come io mi aspettavo un gioco, beh, è il Medioevo. Fanculo, parti del Medioevo. Invece no, parti nel 2012. Se il Desmond Miles era stato rapito da questo gruppo di industria farmaceutica che è l'Abstergo. In questa loro macchina di loro invenzione, l'Animus, si può ripercorrere e rivivere la vita dei propri antenati, perché dicono che nel DNA vi è una sorta di memoria genetica. e quindi con questa macchina si può estrapolare e far rivivere virtualmente al personaggio, quindi in questo caso Desmond, la vita dei propri antenati. La vita che deve rivivere in Assassin's Creed 1 è quella del suo antenato e Altaïr nel 1191. Quindi periodo di crociate e voi a temare. Il gioco comincia che sei in una grotta, una caverna, e ammazzi così, ammazzi la prima guardia che trovi per strada. I tuoi compagni si incazzano abbastanza, perché una delle regole del gruppo degli assassini è non uccidere i civili. e invece Altaïr a quanto pare se ne frega, perché pensa di essere il migliore del mondo, vabbò. E a questo punto si fa un piccolo percorso e si giunge all'artefatto che deve essere recuperato, una missione data dal Mentor, capo degli assassini, e di recuperare questo misterioso artefatto. Però i Templari sono già arrivati prima di voi. Invece di avere un approccio stealth, proprio all'Assassin's Creed, Altaïr decidi di scendere le scale, o come ho fatto io, visto che le scale sono per i pezzenti, buttarsi giù a capo fitto, andare in faccia subito ai nemici e provare a ucciderli così. Ora, appena si prova ad uccidere il capo dei Templari, si viene fermati e scaraventati contro un muro. Il muro si distrugge, ci si ritrova dall'altra parte isolati dai propri compagni e da lì bisogna poi rifare un percorso per ritornare in superficie e ormai l'artefatto è perduto e bisogna tornare a Masjaf dal Mentore. Il Mentore non è soddisfatto di come avete agito, però l'artefatto non è ancora perduto. Di fatti, uno dei compagni è riuscito a sfuggire dai Templari, ha perso un braccio e però è riuscito a recuperare l'artefatto misterioso e lo consegna quindi al Mentore. I Templari però raggiungono anch'essi Masjaf. Comincia una guerra e siccome comunque Altair è uno dei personaggi più fighi e quindi semi-immortale che ammazza così i Templari, per merito suo si riesce a vincere, vabbè anche perché è protagonista, per merito suo si riesce a vincere la guerra. I Templari sconfitti fuggono e comunque il Mentore gli tira una spadata nel cuore perché dice non ti sei comportato come si deve, hai un franto tutte e tre le regole degli assassini che una appunto è non uccidere i civili, una è agire con un basso profilo e l'altra è non tradire mai, non mettere mai a rischio il gruppo. Non fate tutti e tre perché è un coglione. Comunque, alla fine Altair non è morto, la spadata alla fine era solo simbolica, come dire, un'illusione del Mentore che l'unica cosa che ha fatto alla fine è stato declassarvi, togliervi tutte le armi fighe che avevate e lasciarvi solo dalla macerata. A questo punto per riprendersi l'onore perduto bisogna fare le missioni esattamente come vengono dette dal Mentore. Quindi bisogna andare nelle varie città che si possono trovare, cioè nelle varie città in cui ci si può andare, che sono Gerusalemme e altre due, altre tre, non mi ricordo, tantissimo che non ci gioco. Vabbò, comunque bisogna andare lì e raccogliono informazioni sull'obiettivo da uccidere che di solito è sempre un templare e comunque sono persone che limitano la libertà del popolo, fanno puttate varie e rompono i coglioni, insomma. L'obiettivo è raccogliere informazioni e questo alla fine risulta noioso e rindondante perché bisogna farlo nove volte sempre nello stesso modo. Ascoltando i discorsi degli altri, andando da accompagnare, raccogliere informazioni, facendogli dei favori, tipo ah, Altair, meno male che sei qua e ho dei problemi, uccidi tutte le guardie che ci sono che mi rompono le balle e ti daranno informazioni. Così, senza trovare nuovi modi. Vabbò. La cosa, ok, è noioso il gioco, ma la cosa figa è che c'è il realismo, c'è proprio il realismo nel gioco, ti dà quel senso di essere tu, tutto incappucciato, vestito di bianco, ad arrampicarti così per muri, tetti, ammazzare gente, proprio dà quella bella sensazione di essere nel gioco. E anche se, appunto, sei noioso, comunque si rifà con queste sensazioni. Di fatti, anche l'altro giorno mi era venuta voglia di rigiocarci. Sta di fatto che una volta uccisi nove obiettivi e si scopre la verità sul capo dell'ordine, ovvero che è lui il vero cattivo di turno. Beh, il vero cattivo di turno, quindi boss fight. L'unica cosa è che tu c'hai sta cazzo di spada, lui invece ha la mela dell'Eden che è l'artefatto che nella prima missione, quella fallita, è stato alla fine recuperato da quello senza un braccio. Comunque, questa arma ancestrale, per così dire, ha dei poteri fighermi, tipo quello che usa è quello di clonarsi, di fare delle copie di se stesso e tu da povero pezzente dovrai ammazzarli tutti. Una volta ucciso, quindi prendi tu la mela, scopri qual è il vero piano dell'abstergo, di quelli che hanno rapito Desmond. All'inizio dicevano che volevano solo vedere quello che è successo nel passato, ricostruire quello che è successo, sempre per il loro lucro. Alla fine, prendendo questa mela, si apre come un mappamondo virtuale dove ci sono dei puntini illuminati e quindi si capisce che quella è l'ubicazione di altri frutti dell'Eden, di altre mele, di altre armi comunque, che serviranno poi nella guerra che c'è nel presente, tra assassini e templari. L'unico problema è che tu sei un assassino e queste informazioni vanno tutte ai templari. E così finisce il primo gioco, dove i capi templari ordinano di ucciderti e invece l'assistente di quello che ti ha rapito, Lucy Stillman, più o meno, sì, Lucy comunque, e ti salva dicendo no, potrebbe essere ancora utile ai nostri piani, potrebbe riuscire a trovare ancora delle altre informazioni. Finisce l'uno e due anni dopo, dopo che hanno visto il notevole successo che ha avuto questo gioco, i milioni di dischi venduti e comunque dopo anche due anni di lavoro finalmente fanno Assassin's Creed 2. Titolo attesissimo, specialmente da me, che poi la pubblicità mi ha galvanizzato tantissimo. Questo gioco secondo me è il migliore dell'intera saga, sì. Bene, fine del primo video, al prossimo.